Mirko Ruffino, una disavventura davvero incredibile quella che è successa a lei e a tante altre persone all'uscita da Malpensa. Io e la mia ragazza abbiamo lasciato la macchina alle 4 del mattino dell'8 di agosto per un viaggio. Il 19 torniamo indietro, verso le 18.30, aspettiamo la navetta del parcheggio Easy Parking fuori da Malpensa. Riusciamo dopo un'ora a recuperare la navetta che ci porta al parcheggio. Io ho già lì, ho visto che c'erano una quarantina di persone che stavano già aspettando la propria macchina. Io ho pensato, vabbè, sarà un contrattempo. Allora siamo stati lì ad aspettare. Passano ore, macchine arrivavano col contagoccio, nel frattempo la gente si accumulava e superate mezzanotte noi chiedevamo dove erano finite queste macchine. Non si sapevano dove erano le chiavi, le macchine abbiamo cominciato a girare intorno per la città di Somma Lombardo. Nel raggio di un chilometro abbiamo trovato macchine parcheggiate suci dalla strada, parcheggi pubblici, molte anche aperte. Alcune delle macchine avevano la loro chiave incastrata tra la ruota e il battifango. Ovviamente mia macchina non si era ancora all'ombra. Aspetta il mattino, arriva l'alba. Dopo gente, oltretutto, che è anche scopriata, ha avuto i crolli emotivi pazzeschi. Perché dopo decine di ore che aspetti la macchina, ovviamente il crollo ce l'hai. Arriviamo a mezzogiorno, distrutto, perché io avevo 36 ore che non dormivo alle spalle. Arriva il proprietario di Easy Parking e dice La tua macchina si trova a Magnago. La mia macchina si trova a Magnago. Eh sì, l'abbiamo in un parcheggio nostro, adesso se vuoi ti porto. Io e la mia ragazza Stremati saliamo in macchina del proprietario di Easy Parking che ci porta a Magnago, ma non alla macchina. Ci porta al parcheggio Blue Parking, che è un altro parcheggio a loro non affiliato, al quale si approccia il proprietario e dice La vostra macchina è casa mia. Noi veramente, cioè, senza parole, saliamo sulla macchina del proprietario di Blue Parking che ci porta a casa sua e troviamo la macchina. Il problema è che le chiavi non c'erano. Ho dovuto farmele portare da mia madre, che nel contempo era passata da casa mia, aveva recuperato le chiavi, perché le chiavi già dalle 4 si sapeva che non c'erano, erano sparite. Il problema è che non è che la macchina si sapeva dove era. Oltretutto controllo il computer di bordo, dove dopo un piano io a zero sempre, e ho notato che c'erano 300 e passa chilometri in più, tutto a chilometro. Quindi vuol dire che la macchina sicuramente era stata utilizzata. Io ho sporto denuncia, sono andato subito il 21, dopo che mi sono alzato, dopo che ho recuperato le ore di sonno perse, sono andato a fare la denuncia, ho assolutamente intenzione di sentire anche un avvocato, perché comunque le chiavi non si sa se sono state trovate, e la macchina vorrei sapere dove è andata a finire, quelle ore con 300 chilometri, cioè chi l'ha usata.